Ben ritrovato a un nuovo appuntamento con Motore Salute. Questa sera parliamo di ansia, un problema che colpisce molti di noi in maniera non patologica, direi quasi tutti quando abbiamo un appuntamento di lavoro importante, quando ci dobbiamo sposare, quando abbiamo qualche cosa di importante il giorno dopo, magari non dormiamo la notte prima e diciamo siamo ansiosi. Qualche volta però è una malattia patologica che può causare addirittura malattie cardiovascolari e quindi dobbiamo insomma curarla e preoccuparci delle cause della nostra ansia. Grazie alla dottoressa Fabrizia Migliore, psicologa. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, l'ansia colpisce le nostre società evolute soprattutto. Esattamente, proprio così. Ovviamente l'ansia è anche un'ansia contestuale, no? Per cui ci sono dei contesti dove l'ansia colpisce maggiormente le persone piuttosto che altri contesti dove invece magari ci sono altri problemi rispetto a questi, ci sono altre malattie ovviamente, magari anche molto più fisiche rispetto che psicologiche, però l'ansia per esempio da alcuni studi che sono stati effettuati proprio in Italia emerge che una persona su cinque della popolazione italiana ha avuto oppure in previsione avrà un almeno un episodio di ansia. Che cos'è un episodio di ansia? Parliamo di episodi di attacco di panico o di ansia? Allora, prima vorrei definire l'ansia in sé. Definiamo. Allora, diamo una definizione di ansia perché l'ansia non è sempre disfunzionale, come ben diceva lei prima, no? L'ansia è una forma di paura, però va in qualche modo distinta da essa perché la paura è una reazione che noi abbiamo e meno male che ce l'abbiamo perché se no non scapperemo, diciamo, da quelle situazioni che sono anche veramente realmente pericolose dove però c'è un oggetto immediato e presente, cioè per esempio, non so, siamo a casa da soli, sentiamo un colpo, ovviamente lì abbiamo la reazione di paura. Quindi l'adrenalina che ci pompa in corpo è quella naturale e sanissima reazione dell'uomo delle caverne che ci dice scappa o reagisci, esattamente, però lì c'è un oggetto preciso e immediato, no? Mentre per l'ansia non c'è proprio un oggetto immediato e presente, più una previsione del futuro minacciosa, ok? Quindi una previsione che il soggetto si fa di una situazione che può essere minacciosa e pericolosa. Ma è immaginario o reale? Eh, a volte è reale, a volte è per lo più immaginaria, però quando è che l'ansia può essere funzionale? Perché per esempio in previsione di un esame che abbiamo provato tutti, piuttosto che un'interrogazione, no? Cioè l'ansia ci fa arrivare più preparati, perché il soggetto in qualche modo si prepara a tutte le domande difficili che potrebbero capitare, eccetera, quindi l'ansia lo fa arrivare anche più preparato a questa situazione e anche quindi più performante. Quando è che quindi l'ansia diventa disfunzionale, e quindi possiamo parlare di disturbo d'ansia, quando quest'ansia diventa eccessiva e quindi non ci fa condurre uno stile di vita normale. Quindi per esempio quell'ansia per l'interrogazione diventa così eccessiva che non ci fa andare a scuola oppure non ci fa andare all'esame, no? E allora qui possiamo parlare... Perde tutto il beneficio. Esatto, perde il beneficio perché la persona vive come bloccata da quest'ansia e per cui non riesce più, è inerme di fronte a quest'ansia, non riesce più ad affrontarla e quindi di conseguenza viene pervasa e anche la sua vita diventa qualcosa di veramente difficile da condurre, no? L'ansia quindi può colpire a tutte le età. Anche i bambini? Eh, purtroppo sì, ce ne sono sempre di più di bambini perché forse anche proprio dovuto da, come dicevamo prima, dal contesto e dalle situazioni, no? Che siamo partiti a vivere in queste situazioni culturali che ci portano a questo. I bambini sono sempre di più portati ad avere anche una routine giornaliera molto, molto occupata, diciamo così, nel senso che... Sono dei piccoli adulti. Esatto, tra la scuola, tra lo sport, tra la musica e quindi una serie di cose che occupano gran parte della giornata e spesso i genitori hanno anche delle porte aspettative rispetto ai bambini, no? Per cui io dico sempre una cosa, qualsiasi sintomo, anche tutti i sintomi, ma anche l'ansia, bisogna sempre contestualizzarlo, no? Perché spesso il bambino, piuttosto che il soggetto, l'adulto che porta l'ansia, che è portatore di ansia, è semplicemente colui che sta portando, comunicando che c'è un disagio più ampio nel contesto o nel sistema in cui è inserito. Quindi, detto in altre parole, detto molto francamente, sovente l'ansia dei bambini è causata dai genitori. E sovente, non magari, cioè, non sempre dai genitori oppure dai altri contesti. Certo, i genitori non è che pensano, adesso faccio venire l'ansia a mio figlio. No, certo. Però le aspettative esagerate nei confronti di questo piccolo, di questo adulto, che però non è un adulto ancora, è un piccolo, è un bambino piccolo, fa sì che questo bambino non riesca a sopportare il ritmo di un piccolo adulto. Esattamente, oppure ci sono dei bambini che purtroppo vivono in contesti dove anche qui i bambini sperimentano ansia da quando nascono, perché se no non sarebbero in grado di esprimere i loro bisogni, quindi di piangere, di comunicare i propri bisogni alla mamma. Spesso però per quest'ansia succede che per una causa o per l'altra non è così ascoltata, e per cui magari i suoi bisogni non vengono così accuditi. E per cui ovviamente l'ansia poi alimenta ansia. Io sono solita a dire questo, basta guardare un documentario sulla vita delle scimmie, sulla vita dei leoni, sulla vita di qualunque animale che incontriamo in natura, e ci accorgiamo in particolare nel caso della scimmia che il cucciolo è sempre attaccato alla mamma. Probabilmente anche il cucciolo d'uomo dovrebbe sempre stare attaccato alla mamma, perché la natura vorrebbe questo. La natura vorrebbe che almeno per i primi mesi di vita, fino almeno all'anno, ci possa essere uno stretto contatto con la mamma. Anche fisico? Soprattutto fisico, per cui anche per esempio nei corsi pre-parto ormai si dice che veramente di non aver paura di tenerli in braccio questi bambini, perché tante volte bisogna metterli giù perché se no si prendono il vizio di rimanere in braccio, eccetera. No, invece è assolutamente sano e ne va della salute mentale del bambino avere questo scontatto fisico con la mamma. Poi ovviamente il problema è che viviamo in un contesto dove le mamme non possono rimanere molto con i propri figli, no? Per cui sappiamo benissimo anche che chi deve tornare a lavoro deve tornare a lavoro, per cui è anche difficile. Però l'importante è che una mamma si manifesti presente e in qualche modo sappia soddisfare e leggere quello che il bambino sta comunicando. Le mamme africane, anche in Italia, anche in Europa, tengono i loro piccoli sulla schiena con una sorta di marsupio che viene fatto con un grande telone e li tengono sempre attaccati alla schiena affinché non li lasciano e poi quando li lasciano, li lasciano. Arriva il figlio dopo e quindi devono passare ad altro. Forse sono più sani di noi dal punto di vista psicologico. Adesso non vorrei dare un giudizio così forte, però sicuramente i disturbi, la personalità comunque di un bambino si forma dall'inizio, no? Per cui è ovvio che la prima parte della vita di un uomo è importantissima e nella prima parte della vita di un uomo c'è bisogno di cura e di protezione. E aggiungo io di vicinanza. Certo, di contatto, di vicinanza, sì. Allora, abbiamo visto che i bambini possono crescere con l'ansia, poveretti, diventeranno degli adulti con probabilmente con problemi anche loro di ansia, di attacchi di panico. Adesso facciamo una piccola pausa e poi dopo la pausa capiamo quanto l'ansia possa farci diventare insonni, ad esempio, quanto possa farci venire le malattie cardiovascolari e quanto possa farci venire gli attacchi di panico che in un contesto di questo tipo alla fine mi sembra ancora la cosa meno grave. Vediamo che la Rane Biolo è il suo Motore Salute TG. Buonasera e vi ritrovate a un nuovo appuntamento con Motore Salute TG. Un cane addestrato può migliorare la vita di un diabetico. In antichi studi era stato scoperto che alcuni cani da compagnia sono in grado di rispondere all'ipoglicemia dei loro padroni in modo spontaneo, mugulando, saltando o fissando o leccando il proprio proprietario. Infatti è possibile grazie a una molecola spia nel fiato dei pazienti che raddoppia durante l'ipoglicemia. Un team di ricercatori dell'unità di Bristol ha deciso di osservare con quanta precisione i cani addestrati sono in grado di rilevare l'ipoglicemia nei soggetti con diabete di tipo 1 e che tipo di conseguenze possono avere questi cani nella vita quotidiana dei pazienti. I ricercatori hanno collaborato con un'organizzazione benefica inglese che a seguito di prove aneddotiche delle reazioni spontanee dei cani agli episodi di ipoglicemia dei pazienti ha iniziato ad addestrare i cani per allertare sistematicamente i padroni con diabete. Guardando a più di 4.000 casi, i ricercatori hanno scoperto che i cani avevano avvertito correttamente i loro padroni che stavano vivendo un episodio di ipoglicemia nell'83% dei casi. Io ringrazio per l'attenzione e anche per questa sera passo la linea allo studio. Grazie. Grazie.